post 2017 andrea al fieri del chiostro di andrea oggi ci ha presentato un piatto a base di baccalà nello stand di chic per chic respect al fieri andrea il chiostro di andrea a milano abbiamo fatto un baccalà mantecato con dei cannoli di polenta quindi abbiamo farcito i cannoli con il baccalà una spuma di patate e una pasta di nocciola e dei porri bruciati per la cottura del baccalà abbiamo usato il forno a vapore e poi abbiamo usato il bollitore e l'induzione poi per friggere in maniera perfetta a livello anche di temperature i cannoli grazie